Chiaravale Centrale, consiglieri comunali di maggioranza, posizione Foti, mancanza di coerenza. Alla luce delle attuali posizioni prese dal consigliere Foti in qualità di consiglieri comunali di maggioranza al comune di Chiaravale Centrale, riteniamo doveroso rendere nota la nostra posizione rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi. Difatti, lo stesso Foti, eletto per la seconda volta in forza al nostro gruppo, ha deciso di porsi in modo chiaro contro la linea politica e amministrativa, ad oggi da noi scelta e condivisa. Questo atto di dissenso rappresenta non solo una mancanza di coerenza, ma anche una chiara violazione del patto di fiducia e collaborazione su cui si base il nostro operato. Il gruppo ha sempre lavorato con unità e coesione per il bene della comunità e pertanto diviene di fatto inevitabile considerare tali posizioni, essendo le stesse di grave rottura come strane all'attuale compagine. Scegliere deliberatamente e di contrastare la linea adottata dall'amministrazione Donato rappresenta un atto di scorrettezza politica che non possiamo più accettare né tollerare. Di conseguenza esprimiamo ufficialmente la decisione di considerare il consigliere Foti non più in seno al gruppo di maggioranza. Questa decisione è presa nell'interesse della trasparenza, della coerenza politica e del rispetto verso i cittadini, che ci hanno affidato il mandato di governare una corresponsabilità e integrità. Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro con determinazione, garantendo che le nostre decisioni siano sempre guidate dal bene comune e dai principi che ci hanno contraddistinto. La nota affirma di Bruno Santoro, Gianfranco Corrado, Giuliano Fera, Isabella De Masi, Liberata Donato, Marzia Sanzo e Pina Rizzo.